Finanziare le piccole e medie imprese per combattere gli effetti della crisi e creare nuove occasioni di lavoro per i professionisti. L'iniziativa è della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri, che ha annunciato investimenti in due fondi, uno americano e uno italiano, per sostenere le aziende e combattere così il calo generalizzato dei redditi dei professionisti. Noi siamo già investitori da parecchi anni in fondi di private equity che sostengono con investimento nella parte azionaria le imprese. Stiamo analizzando due prodotti di investimenti che invece aiutano a disintermediare il ruolo delle banche attraverso la sottoscrizione di note di debito emesse nel recente decreto Passera, che hanno dei vantaggi di carattere fiscale, dei vantaggi in ordine anche alla tassazione e quindi aiuteranno a disintermediare quello che è il sistema bancario. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, che ha evidenziato come la crisi economica abbia colpito soprattutto le categorie considerate più deboli, come donne e giovani, che negli ultimi anni si sono rivolte al settore delle professioni. Il 60% dei neo iscritti agli ordini è di sesso femminile e tra gli iscritti agli albi il 55% ha meno di 45 anni. Puntare sulle professioni, ha sottolineato Moretta, è fondamentale per far ripartire il motore dell'economia italiana. Per questo, iniziative a supporto della categoria sono ritenute in questo momento più che mai necessarie.